La compagnia di Gioia Tauro, col supporto dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria del Nucleo Cinofili di Vimbo Valencia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti che ha interessato i comuni di Melicucco e Maropati. Nel corso del servizio i carabinieri hanno svolto numerosi posti di controllo nelle principali arterie stradali della zona, effettuando perquisizioni personali, veicolari e domiciliari nelle aree ritenute maggiormente sensibili. In tale contesto operativo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantasenne pregiudicato del luogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, all'esito di una perquisizione domiciliare effettuata in un immobile di sua proprietà a Melicucco, i militari hanno rinvenuto, occultata tra oggetti e su pelletili vari, una busta in cellofan contenente circa 300 grammi di marijuana, già essiccata ed in buono stato di conservazione. A Trinanti, frazione del comune di Maropati, invece i carabinieri della stazione di Feroleto della Chiesa hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne del luogo con precedenti di polizia, accusato di furto aggravato. Infatti i carabinieri, nel corso di un controllo, hanno accertato che l'uomo, reiterando una condotta già tenuta in precedenti controlli, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica al fine di alimentare la sua abitazione. Entrami gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati posti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Palmi.